Back in ETV 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Di fare del nostro meglio per portarvi questo lavoro. Come lo troveremo questo disco? So che c'è anche un'etichetta dietro. Sì, l'etichetta è Fili Busta Records, un'etichetta di Roma che ci sta sostenendo un sacco e che ringraziamo. E il disco sarà distribuito sia digitalmente che, insomma, venduto in copie fisiche. Fate il CD? Sì, sì, faremo anche il CD. Ok, e il vinile pure? Il vinile no. Ok, ok. Perfetto. Ci lasci i contatti così la gente vi può seguire e sarei attenti alla data quando uscirà. Giusto, vai. Facebook, Monkey Tempura, poi abbiamo un profilo Instagram, insomma, importantissimo di questi tempi. Abbiamo un canale YouTube dove potete trovare anche il video del nostro primo singolo che si chiama Valkyria Effect, che è uscito a... È uscito prima dell'estate, insomma, durante l'estate e abbiamo realizzato questo video da soli, è abbastanza divertente. Raccontacelo un po', allora. Eh... Ci vuoi dire un po' che cosa vediamo nel video? Nel video vedrete ciascuno di noi relazionarsi a una situazione di imprevisti. Quindi è una camera fissa e noi quattro che rispondiamo a degli input esterni. Va bene ragazzi, andatelo a guardare, seguiteci anche a noi su Facebook, Balconi TV Rome. Ringrazio ancora Contessa Rock Hair, io sono Mika, loro in Monkey Tempura, ci vediamo con voi la prossima settimana. Grazie mille, ciao. Grazie, ciao.